Con Mr. Allegretti al termine di questa Eurovittoria della Clivense, partita da vincere, partita stravinta. Stravinta, giocata benissimo, interpretata ancora meglio, quindi una grande festa davanti a tanta gente, perciò diciamo che meglio di così non poteva andare. E grande prestazione di tutti i giocatori, su tutti se dobbiamo trovare un migliore sicuramente Venitucci per quei due Euro goal ma anche per come comunque ha gestito il pallone, ha impostato e poi in mezzo anche comunque il gol di Momo Duda, attaccante aggiunto, un premio per tutti quanti. Sì, insomma, con le qualità che ha Dario è un peccato che non ci abbia mostrato in altre partite anche gol del genere. La prestazione però di tutti è stata sopra le righe, al di là del gol di Momo nel secondo tempo abbiamo preso un palo, ho creato un'altra occasione con Polo, quindi giocavamo contro una squadra forte, a pari punti con noi, perciò diciamo che abbiamo fatto un qualcosa di eccezionale, sappiamo che non è ancora finita, però diciamo che oggi abbiamo dato un bel segnale a tutti. Avevate preparata così, la tua formazione sicuramente, sei contento della prestazione dei tuoi, ti aspettavi forse qualcosa di più da parte degli avversari per come erano arrivati a questo appuntamento? Ma io preferisco pensare che i ragazzi sono stati talmente bravi. Presidente nel frattempo, qualche disturba. Che sono stati talmente bravi che sono riusciti a non concedere nulla, quindi l'avevamo preparata in questa maniera, sapendo di avere una squadra forte di fronte, con delle individualità importanti, quindi l'attenzione è stata tanta, ma sono stati bravi anche a essere pazienti, a non perdere la testa, a essere sempre concentrati, quindi meglio di così appunto non poteva andare. Una vittoria così vale sei punti, diciamo che ci avvicina a maggior ragione ancora di più al grande obiettivo di questa stagione, già le prossime, la prossima potrebbe essere decisiva. Ma siamo vicini, è indubbio che siamo vicini, però non è appunto finita, quindi i festeggiamenti per questa partita è giusto che non vadano avanti solo fino a domani, ma anche un giorno in più, come è giusto che sia. Io ne approfitto per fare a tutti quanti gli auguri di Buona Pasqua, per ringraziare quelli che sono venuti a sostenerci, per ringraziare quelli che ci sostengono da sempre, anche se non al campo. L'unica nota purtroppo non positiva è che ancora non abbiamo notizie come vogliamo noi da parte del magazziniere, al quale dedichiamo questa vittoria e speriamo presto appunto, come avevo detto, che possa tornare tra noi. Grazie.